dai dai metterlo paracadote dai come si va via marzano su il ecco la sambetta bello eh e poi ci ciò lì allarca prima attendo il pezzo finale ce lì è bello rigido questa marcella è un pezzo pericoloso aspetta eh vai piano occhio qua eh qui occhio eh aspetta Massi bello bello bellissimo ahhh 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 ahhh